Allora, buonasera a tutti, grazie Laura e grazie agli amici del Circolo dei Lettori di Milano. Comunque credo sia la prima cosa che io faccio. Non so se tu Marco hai già fatto altre cose, però per me è un debutto, anche se con questa forma un po' strana, ma ormai siamo abituati del dialogo a distanza, del dialogo per interposto schermo. Mi scuso anche io che anch'io non sono informissima, perché è una settimana di influenza in tutta la famiglia e non era ancora toccato a me, è arrivata oggi. Però sono abile, arruolato, ho letto il libro, quindi ho fatto tutto questo. Hai anche scritto una recensione, ti ricordo. Sì, ma quella l'avevo scritta così a caso, senza averlo letto. No, ho letto... In realtà questo è un libro che io, Marco, lo sai, che ho un po' seguito, perché l'avevo letto in bozza prima, insomma, un po' di tempo, l'anno scorso forse addirittura, quando non era ancora, credo, una versione definitiva. Poi adesso l'ho riletto nelle coppie, quelle staffette, insomma, quelle ancora, le bozze non corrette. Però vi faccio vedere, non so com'è la prassi del Circolo di Milano, però la copertina di Randaggi, Marco Merighi, Bollati, Boringhieri, intanto è molto bella perché è un'illustrazione di Giuseppe Quattrocchi, non farmi fare gaffe, giusto? Ok? E merita veramente di essere mostrata al di là del motto inglese non si giudica nei libri dalle copertine, però è vero che i libri brutti di solito hanno copertine brutte, come i libri. I peggiori dischi di Bob Dylan delle copertine non si possono vedere, no? Quindi non sono così convinto. Allora, in realtà, Marco, io vorrei far parlare tantissimo te e lanciare, insomma, come dire, buttare degli ami nel mare e vedere se abbocchi e se ci racconti un po' di cose del tuo testo. Perché in realtà presentare Randaggi può essere facilissimo o difficilissimo, è per lo stesso motivo. Il motivo è questo, che è un romanzo di una ricchezza, di avvenimenti, di personaggi, di luoghi e di età anche, perché in realtà è un romanzo che attraversa delle generazioni, benché i protagonisti siano questi ragazzi, insomma, tra i 20 e i 30 anni, diciamo, una generazione Erasmus, non so se è un'espressione che ti piace, però per far capire bene, insomma, di che tipo di umanità si muove all'interno delle tue pagine. Però in realtà è un libro a livello di tempo, di epoca, epoche, e a livello di spazi, cioè di luoghi, di attraversamenti, eccetera, da cui si può entrare in 100 modi diversi e da 100 possibili chiavi di lettura. Quindi, da una parte è facile, nel senso che non mancheranno mai i temi e gli spunti sia narrativi che in realtà di pensiero, tra virgolette sociologici, eccetera, per poter raccontare randaggi. Dall'altra parte è molto difficile scegliere qual è l'entrata migliore. Dico una cosa, ma proprio velocissima. Al centro di questo romanzo c'è una famiglia pisana, benestante, insomma, vive, vede la torre di Pisa, insomma, dalle finestre della sala, quindi siamo comunque abbastanza, una borghesia pisana. Famiglia disfunzionale, poi se avremo tempo parleremo di tutti i vari problemi, dei vari componenti della famiglia, si chiamano benati. Inquadrati tra gli anni 90 e i cosiddetti anni zero, insomma, c'è una forbice di 10-15 anni in cui vengono raccontate le loro vite, con al centro, e questa è la prima domanda che ti faccio, anche se forse non dovrebbe essere la prima, il protagonista, Pietro Benati, che è un ragazzo normale, un po' di pancetta, non particolarmente bello, non particolarmente, anzi per niente bravo con le ragazze, con qualche problema a socializzare, con una madre iperipocondriaca e iperprotettiva, con un padre con cui i rapporti si guastano, con un grande talento, ma a metà. È bravissimo a suonare la chitarra, e poi sulla musica magari ci torniamo, perché è uno dei bassi continui della tua produzione finora, sia per i libri che hai firmato tu, sia per i libri che hai scritto per conto da altri. Immaginate di avere una persona a cui tu metti in mano uno spartito e lui te lo suona nella maniera migliore possibile. Gli togli quello spartito, lui non sa inventare una nota in più, non sa mettere niente di realmente personale. Allora, io vorrei partire da Pietro, poi torneremo attraverso gli altri ingressi di cui si parlava sopra. Però a me la cosa che ha molto stupito è che noi siamo in un momento in cui la letteratura italiana, quando non parla dell'io, cioè quando non parla di sé, l'autofiction e tutte queste cose qui, va a cercare dei personaggi larger than life, o comunque delle vite tirate allo spasimo, mi ci metto anch'io in questa cosa qua. La descrizione della normalità, della vita di paese, della vita di... è un tema, adesso poi magari dimmi che non è vero, perché in realtà è una cosa su cui io sto ragionando e leggendo Randaggi è stata una delle tappe di questo ragionamento. La rappresentazione della vita quotidiana, insomma, del bar, del panettiere, di queste cose qua, è più appannaggio della letteratura di genere rispetto alla letteratura cosiddetta di serie A. Tu invece hai scelto, con Randaggi, di cui poi raccontiamo un po' le vicende, di entrare raccontando, pur con tutte le sue stranezze, pur con tutte le sue idiosincrasie, di fare una foto lunga 10-15 anni di un tizio qualunque, leggermente un po' in grigio, via via che invecchia, sempre più consapevole di essere grigio e sempre più, anche in qualche modo, confortato, io l'ho visto così, da questa sua mediatas, che non è esibita, ma è a un certo punto proprio accettata come una condizione quasi del destino. Cioè, io sono quello che è così. Quello che voglio sapere è, anzitutto, se è vera questa mia riflessione su Pietro Benelli. E poi, come si decide di lavorare e di scrivere un libro di quasi 400 pagine su questo argomento? quali sono le difficoltà, ma soprattutto le fiamme che si accendono? Cioè, qual è il momento in cui tu, come Marco Amerighi, ti innamori di una figura, la dico brutta, peggiore di te, per raccontarne la storia? Ecco. Allora, sì, molto interessante questa domanda che fai e scoperti alcune domande che mi hanno accompagnato da ben prima della prima pagina di Randaggi. Rubo un minuto la risposta per unirmi a ringraziamenti al Circolo. Andrea mi diceva hai mai fatto qualcosa col Circolo e con la dottoressa Laura Lepri? Sì, in realtà sì, perché erano stati così gentili da invitarmi, quando era uscito il mio primo libro, In presenza, allora vivevamo una vita scansonata ed era stata una bellissima presentazione che ricordo con molto affetto. Quindi grazie di nuovo per questo invito. Andando alla risposta, cioè uso un po' di sponde che mi hai dato. La prima è quando dici che si può entrare in questo libro da molte porte. Questa è già una chiave per provare a risponderti su chi è Pietro Benati. Io volevo costruire una narrazione su dei personaggi che io potessi intercettare in alcuni momenti della loro vita, dando per scontato che quei momenti, dato che venivano scelti quasi casualmente, non sempre coincidessero con i momenti e i movimenti apicali della loro vita. Cioè non necessariamente quando entravi nel libro, quando aprivi un capitolo, quando entravi in una situazione, percepivi che stava per accadere qualcosa di grande, quel qualcosa che dicevi che di solito indaga la letteratura di serie A. E invece il mio tentativo era quello di costruire in narrativa una sorta di forma biografica. E nella biografia sta anche la digressione, sta anche la pausa, sta anche il momento nel cui l'eroe, qui siamo di fronte a un anti-eroe per eccellenza, all'uomo senza qualità, è dato che senza qualità ha più momenti di sperdimento che rispetto ai momenti invece di crescita, ai momenti in cui il suo cuore si infiamma, la sua testa capisce che di fronte a lui c'è qualcosa, c'è una missione. Questo accade anche in Pietro, perché Pietro quando è bambino, e qui inizio a raccontarvi qualcosa anche della storia, deve eseguire una sonata per il re minore di Tchaikovsky, il momento in cui si avvicina per leggere al microfono il nome della sonata, appoggia le labbra sul microfono e rimane folgorato, perde i sensi per un paio di minuti e in quei due minuti, un po' come accadeva ai mistici medievali che attraversavano il deserto e che poi vedevano Dio, chi per lui, lì mi sento di dire più per una insolazione oppure una mancanza di zuccheri, diciamo, Pietro invece vede che cosa vuol fare, vede che deve diventare un musicista, chitarrista, pur non avendo talenti. E qua iniziano a entrare in campo due elementi che vanno a rispondere alla tua domanda, cioè, vuole dire, come si costruisce un personaggio del genere? Pietro è un uomo comune, un uomo senza qualità che viene da una famiglia straordinaria invece, un nonno che è stato diciamo un eroe di guerra, poi chi ha letto il libro sa che non è proprio così, in Etiopia, un padre che ha una grande arzza retorica e riesce a convincere chiunque si muova attorno a lui, un fratello che è una specie di remida perché è un genio della matematica, è un campione sportivo che ha acceso di eccitazione tutte le società sportive della Toscana in cui ha militato e Pietro invece non ha, non è niente di tutto questo, non ha nessun talento e dentro di lui iniziano a muoversi e a scrittiolare anche due vettori che sono contrapposti. Da un lato Pietro ha e avrebbe il desiderio di fuggire in un altrove che in quanto altrove è rischioso perché è un salto nel vuoto, lui che è un uomo pieno di fife, pieno di paure, di timori, questo salto non si sente di darlo, ma sarebbe l'unico salto che lo porterebbe lontano invece dall'orbita gravitazionale di una famiglia che tu hai chiamato disfunzionale e disfunzionale o meno comunque proietta un'ombra molto grigia su Pietro che sa di non essere all'altezza. Dall'altro però invece è il vettore opposto, cioè vale a dire la natura di Pietro, quella che lo obbliga ad adattarsi ad una vita che in realtà non gli corrisponde, che non lo rende felice e quindi da una parte c'è un vettore che lo porta verso l'esterno e gli dice fuggi, dall'altro invece c'è un vettore che gli dice resta incatenato, nel tuo DNA c'è una catena che esemplifica la tua ordinarietà, non puoi andartene, è una sorta di maledizione, questa è una parola che recheggia un po' nel libro e quindi ecco è naturale che in un personaggio così ordinario ti permetta anche di lavorare sull'estremizzazione di questi suoi timori, di questi suoi passaggi a vuoto, tant'è che il libro che è diviso in tre parti è un libro che di fatto racconta apprendistato e fallimento, il primo apprendistato e fallimento è la musica, l'abbiamo detto nella prima parte, nella seconda Pietro verrà spinto, obbligato proprio da suo fratello il re Mida a volare in Spagna da solo per la prima volta e sarà un apprendistato floberiano, quindi sentimentale e il terzo invece è un tipo di apprendistato professionale, è l'ultimo gradino che Pietro tenta di salire e vale a dire quello che lo porta più vicino all'età matura ma tutti questi gradini sono delle imprese titaniche per un uomo appunto senza qualità come lui e così come esistono due vettori che lo guidano esistono anche appunto due strade da una parte c'è il fallimento e dall'altra parte c'è il desiderio di realizzarsi e è ovvio lo si capisce anche da come credo l'ho presentato che è impossibile di rimere un tipo di contenzioso del genere un tipo di conflitto del genere e infatti verso la fine del libro senza voler andare a raccontare niente l'unica cosa che possiamo dire è che Pietro ha 28 anni e sa chi è questo non vuole dire che è esattamente pronto a cambiarsi ormai siamo anche un po' subissati da questo tipo di narrativa per il quale le ferite che ci portiamo devono essere esibite e guarite ed è un tipo invece di narrativa con il quale non vado così vicino in questo caso Pietro potremmo dire che semplicemente è più consapevole ma mi viene in mente quel capolavoro di Joseph Roth che è Fuga senza fine la fuga di Franz Tunda è una fuga uno spaisamento dell'uomo europeo per l'Europa ormai in frantumi la guerra è una visione naturalmente estrema nichilista ma in un certo senso ecco dove finisce Tunda sui gradini della Madeleine a Parigi immobile spaisato senza nessun tipo di ambizione senza nessun tipo di sentimento è come se lì iniziasse diciamo il germe nativo di Pietro Benati è come se Pietro Benati nascesse lì ecco come se su di lui ci fosse un po' gravasse questo tipo di di inedia questo tipo di di immobilità ecco allora questo parallelo è molto affascinante io non ci ho pensato francamente ed è molto cioè ci sta e ovviamente ti mette nei guai che non è che mi tiri fuori Joseph Roth io te lo faccio passare te lo faccio passare così senza coltiferire no no mi veniva in mente che di fatto se tu accosti Randaggi a a fugue senza fine o comunque a un libro di Roth fai un'operazione ben più come dire narrativamente ben più profonda rispetto all'accostare semplicemente i due personaggi che uno la Madeleine e l'altro sull'arrivo dell'Arno che insomma che sono più o meno realizzati sono più o meno disfatti però insomma sono lì e riflettono su chi sono diventati di fatto tu stai dicendo visto che in Roth si fugge da un mondo che crolla e da un mondo in cui non si trova più la propria identità linguistica culturale familiare anche nel caso insomma di Tunda eccetera se io giro questo paragone e lo appiccico a randaggi la domanda che non avevo pensato di farti ma che mi viene spontanea dal tuo paragone è c'è un nuovo tipo di come dire quello che tu vuoi mettere in scena raccontando il mondo contemporaneo perché di fatto insomma parti dagli anni 90 arrivi a pochi anni fa insomma quindi raccontando il mondo di oggi raccontando delle persone che tutto sommato hanno grosso modo la tua età che poi è più o meno la mia insomma io qualche anno in più però insomma quello che stai dicendo è che la nostra generazione è messa di fronte a qualcosa che si sgretola come lo era la generazione dei Tunda è lì che va a parare a randaggi? Diciamo non è che va a parare è più come se in un certo senso riprendesse quella strada cioè adesso non ricordo bene l'anno esatto siamo alla fine degli anni 20 forse qualcosa del genere Fuga senza fine lo vado a cercare tu parla io lo so esatto avrei potuto citarti anche un altro libro che per me è stato ancora più la Bibbia però ecco proviamo a metterli anche insieme l'altro libro è Martin Eden di Jack London che ha un altro tipo di parabola e di sgretolamento e di perdita di punti di ancoraggio molto simile quel libro di Jack London Martin Eden è stato definito il libro più borghese mi ricollego un po' alla presentazione che avevi fatto la famiglia di Jack London è un libro profondamente generazionale ma anche di formazione ma anche di viaggio e questi sono elementi sia Roth che London che mi piaceva prendere in consegna perché sono questo modo di pasticciare i generi di incrociarli sono tutti modi che permettono a un libro poi di caricarsi di densità e di complessità allora ecco mi viene in mente quel saggio di Julia Cristeva Sole Nero che parla di tante cose ma a un certo punto ricordo bene che parla di la malinconia in Aristotele passa a Dante ci sono tanti spunti interessanti ma ricordo proprio come andava a identificare nei in quei punti di rottura della della società cioè quelle epoche che vedevano il crollo degli idoli religiosi il crollo degli idoli politici le epoche di crisi tu ne hai citato un po' e Roth che poi ha vissuto esattamente la parabola di Franz Tunda e lui il nomade che attraversa tutta l'Europa sgretolata sono particolarmente propizie per ehm gettare diciamo così le basi per un per una generazione macchiata da da qualcosa eh Kristeva diceva un umor nero però ecco eh avvicinandoci a Randagi io direi che che non so se è esattamente un umor nero però sono personaggi che proprio perché non hanno punti di riferimento politici economici ideali religiosi religiosi anche eh si sentono sperduti hanno iniziato a girare a vuoto sono diventati raminghi e quindi mh naturalmente non volendomi arrogare nessun diritto di paragone né di prosecuzione però ecco questi in particolare questi due personaggi sono due personaggi forse i miei preferiti nella letteratura eh o nel in questo periodo anche in questi anni che ho lavorato su questo libro e e se i Randagi non non fosse che per DNA non possono essere padri perché sono loro stessi i primi a essere sperduti e quindi sradicati senza pigli senza famiglia eh Franz Tunda e Martin Hiden sarebbero i genitori di Pietro Benato sarebbero proprio eh i due contenitori genetici che vanno poi a costruire il patrimonio eh è bello usare anche questa parola patrimonio come se in effetti questi randagi avessero qualcosa invece sembra proprio che questi tipi di randagi non abbiano non abbiano in loro nessun tipo di patrimonio e vaghino in maniera molto raminga molto libera anche a volte questo è anche il bello di questi tipi di personaggi perché poi soprattutto nella seconda parte quando Pietro arriverà in Spagna e da solo eh dovrà trovare un modo per stare al mondo lui non è un inetto una persona che che ha molto paura di tutto eh delle donne delle relazioni dell'intimità incrocerà invece altri tipi di randagi con storie diverse ma con questo tipo di assenza simile questo tipo proprio di di mancanza di patrimonio genetico radicato a un luogo a una fede ed è così che infatti inizierà a ricostruire piano piano anche senza accorgersene anche con dei salti temporali anche con delle pause delle frazioni come dicevi tu all'inizio una nuova famiglia e anche questo concetto sta alla base di randagi ed è un concetto che che forse abbiamo un po' intravisto anche nei primi tempi del lockdown se ti ricordi quando si cominciava a parlare dei congiunti chi erano questi congiunti qual è la vera famiglia che abbiamo è come se in un certo senso questa riflessione i randagi l'avessero fatta un pochino prima perché non hanno quei punti di riferimento non hanno la famiglia non hanno i maestri non hanno uno stato e allora come un branco si annusano si riconoscono e si compattono pian piano l'un lato però questa cosa che secondo me è molto interessante e molto giusta se è applicata al tuo libro mi fa venire in mente una suggestione che oltre a quello che tu hai detto che è sacrosanto io non sono di quelli convinti che l'autore ha sempre ragione perché l'autore spesso è inconsapevole di quello che ha fatto a volte però in questo caso secondo me hai ragione sul tuo libro l'hai capito e no bravo no un altro elemento secondo me che si aggiunge a queste forme di 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 disradicamento e di direi di 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 incapacità di che ha Pietro ma che non ha solo Pietro perché anche altri personaggi ce l'hanno Dora Laurent l'incapacità di dire chi sono in una frase cioè di definire se stessi viene anche ma è una è una domanda non solo da queste vite un po' appunto raminghe un po' un po' randage queste famiglie strane quando ci sono da cui da cui provengono questi ragazzi ma anche forse e qui c'è e qui c'è la domanda da una da una parte una un'incapacità vera di saper fare qualcosa cioè io sono quello che fa bene il risotto io sono quello che suona che suona bene la chitarra ma la suona inventandosi delle cose cioè mi esprimo attraverso quello io sono quello che è bravo che sa aggiustare tutto ecco questa cosa qui i tuoi ragazzi i tuoi personaggi ma questo vale anche forse per le generazioni per il padre per esempio di non la sanno dire cioè non sanno definire se stessi attraverso un'abilità e insieme a questa cosa qui c'è sempre un punto di domanda alla fine l'incapacità davvero non avrei mai pensato nella vita di dire una frase del genere per cui dimenticatevela l'incapacità di amare cioè di lasciarsi realmente andare con qualcun altro l'unica persona del libro che queste capacità ce le ha sia un'abilità che lo identifica sia la capacità forse addirittura esagerata di innamorarsi e di darsi e di darsi a qualcun altro è l'unica vera persona di genio che attraversa il romanzo oddio c'è anche Laurent però Laurent è un nichilista si lascia andare Tommaso il fratello maggiore di Pietro che è alto bello magro vuole giocare a pallone esordisce in Serie A nel Pisa e fa ricordami bene un assist per un gol della vittoria giusto? non segna lui decisivo è un assist decisivo a 17 anni 18 anni quanti sono poi si fa male deve fare deve cambiare carriera ma quando cambia carriera vince dottorati ad Harvard va a fare insomma cioè alla Columbia eccetera eccetera quindi è il genio di famiglia ecco l'unico che mi sembra centrato su so chi sono sono questo e so che posso darmi agli altri perché ho una base sapendo chi sono posso dare un pezzo di me a qualcun altro quindi innamorarmi di qualcuno mi sembra però sarebbe bello che tu mi smentissi Tommaso con cui paradossalmente Pietro ha un rapporto bellissimo cioè Pietro è il fratello sfigato diciamo così che ha tutto per odiare Tommaso e invece di fatto c'è questa questa unione alchemica tra tra loro due che che va avanti nonostante poi magari non si vedano per mesi per anni perché quando quello va a vivere negli Stati Uniti poi insomma si perdono un pochino i contatti ecco vorrei che mi facessi un po' un ritratto sia di Tommaso che è un randaggio ma lo è fisicamente forse è meno randaggio degli altri dal punto di vista dei propri talenti e della capacità di darsi e del rapporto tra Tommaso e Pietro perché mi sembra un po' la chiave vera del libro o una delle due tre chiavi vere del libro sì sì sicuramente è il cemento che tiene che tiene insieme il libro e allora dato che tu hai premesso dicendo che questa è una cosa che non credevo di dire mai nella vita aggiungo anch'io un carico da 90 dicendo non credevo che avrei mai detto una frase del genere ma in realtà questo è un libro in cui l'amore è veramente molto molto importante cioè come sentimento che riesce a unire i personaggi è un tipo di amore su cui ho riflettuto abbastanza e recentemente perché poi come diceva dottoressa Lepri all'inizio ci sono state tante letture che mi hanno poi chiarito le idee perché poi il bello dei libri è questo che ogni tanto poi te la fanno perdere la bussola altre volte poi ti riportano in carreggiata leggendo tanti tanti toscani per l'appunto per per rinverdire per impastare il lessico la sintassi per capire anch'io dove stavo in un certo senso all'interno di questa parabola ho riletto una serie di autori e c'è uno uno di questi ritorno particolarmente frequentemente in questo periodo ed è Vasco Pratolini in un libro piccolo cronaca familiare il libro forse più intimo che ha scritto Pratolini è la storia del suo fratello suo fratello poi morto quindi è un romanzo molto doloroso ma in realtà molto molto pieno d'amore sono due fratelli che sono cresciuti a distanza e proprio questa distanza porta su di loro due caratteri molto diversi uno è nobile e umberoso l'altro invece è pratico sa fare tutto è molto diretto sembra vivere la vita in maniera molto schietta e questa diversità non voglio dire che ha orientato la costruzione dei due fratelli ma mi ha fatto ragionare su un tipo di amore che è quello di cui parla Pratolini Pratolini dice proprio c'è una frase meravigliosa in cui dice amore è farsi coraggio amore è difesa amore è sangue che si aggiunge al tuo sangue e in un libro ecco tu Andrea l'hai letto sai che in questo libro c'è molto sangue ci sono molte ferite non sangue nel senso non stiamo andando verso un territorio splatter ma c'è molto sangue che si mescola col sangue ci sono molti momenti in cui i randaggi si fanno coraggio proprio per la mancanza di unione familiare sta a loro riuscire a andare al soccorso l'uno dell'altro ed è una forma d'amore anche questi due fratelli hanno una forma d'amore lo si dice proprio all'inizio del libro forse siamo al secondo capitolo se ricordo bene Pietro stesso non capisce come sia possibile che lui ami suo fratello perché a crescere con Tommaso con questo re Mida e beh verrebbe a dire a tutti verrebbe a dire beh insomma ma come fai a voler bene a un fratello così che è un fratello perfetto gli vuoi bene perché è esattamente l'amore di Pratolini cioè è un amore che non finisce mai che non si allontana mai anche quando è lontano geograficamente sto parlando della seconda parte nella quale Tommaso a un certo punto come dicevi giustamente scopre sempre di essere più bravo in qualcosa nel proseguo del libro vince un dottorato a un certo punto però per un motivo che non vi non vi dico non vi racconto per non togliere la sorpresa e si lancia in un viaggio è sulle ande boliviane la si perde e inizia una corrispondenza via email col fratello una corrispondenza che è molto intima come se in un certo senso alla distanza geografica corrispondesse una sorta di ultima possibilità una specie di ultimo duello siamo così lontani che quello che ci diciamo non può farci male anzi siamo così lontani che adesso posso dirti finalmente tutto ciò che penso di te e diciamo questo rapporto tra fratelli cresce cresce e matura sempre di più nel libro quando stanno insieme Tommaso a Pisa nella prima parte Tommaso è il pungolo è la persona che tira fuori Pietro dalla sua enedia dalla sua incapacità di vivere nel mondo addirittura quando uno scandalo poi graverà sulla famiglia e Pietro si rinchiuderà in camera convinto e deciso a non uscirne mai più perché non sopporta la vergogna sarà il fratello invece a tirarlo fuori ed è costantemente Tommaso sempre a tirarlo fuori a costringerlo a vivere quello che a cui non si può scappare perché la vita è questo del resto per quanto uno possa provare a nascondersi dalle delusioni dai fallimenti poi la vita trova sempre il modo per scalzarci e obbligarci a tornare a vivere per l'appunto e quindi ecco è sicuramente una forma d'amore aggiungo questo forse dandoti non contro ma aggiungendo una cosa c'è un altro personaggio che ha in sé una forma d'amore altrettanto pura mi verrebbe da dire ed è Tiziana è la madre di Pietro è una forma d'amore molto dolorosa e molto pericolosa perché Tiziana è una sorta di Cassandra che ha capito tutto sia della sua famiglia che della famiglia precedente del futuro che aspetta i propri figli e l'ha capito alla seconda riga del romanzo solo che in un certo senso è inascoltata è convinta che la sua famiglia andrà in Fantrumi si sgregherà perdendosi che debbano succedere delle disgrazie ed è una persona noi diremmo ipocondriaca ossessionata quando porta i figli al supermercato li allontana dalla corsia a frigo o gli mette la sciarpa perché ha paura che possa fare mai lai bronchi queste sono parti autobiografiche queste sono sicuramente le parti autobiografiche no in realtà no e quindi ecco voglio dire Tiziana è una persona che a differenza di tutti i randaggi che si sperdano in continuazione che hanno proprio nello smarrimento anche fisico la loro la loro chiave la loro essenza Tiziana rimane immobile è un po' una sorta di centro gravitazionale unico dolorosissimo perché perché i randaggi sono fatti per andare via mentre lei è fatta per restare ma questo peso che ha in realtà è un peso molto consapevole ripeto dolorosissimo perché tutti sono destinati ad andarsene lei però è ferma e infatti il romanzo le gira un po' attorno e si concluderà di nuovo da lei portandole e dandole ragione portandole una nuova famiglia come dicevo all'inizio una famiglia di randaggi che non è la famiglia che la madre si aspettava di ricevere in dono ma questi sono i tempi e questa è la generazione di questi randaggi sì tra l'altro mi veniva in mente una cosa su Tommaso intanto che lo raccontavi un po' che penso l'unico caso in letteratura ma anche al cinema penso di personaggio sostanzialmente perfetto che non mi è stato antipatico cioè c'è qualcosa di non saprei come definirlo di vivo e di verace in tutti i personaggi che hai creato che però non è una cosa su cui si può fare una domanda o si può dare una risposta è una cosa che si percepisce leggendo che questi sono non è gente nata dai libri per i libri ma è gente viva che in qualche modo è stata buttata sulla pagina non so spiegarla in modo migliore però la prova provata è questa cioè Tiziana è il tipo di madre che io non sopporto però quando c'è nonostante tutte le sue paranoie nonostante tutte le sue stupidaggini anche perché voglio dire di tenerti lontano dal frigo supermercato non è una roba però quando c'è il romanzo è caldo cioè tu sai che c'è un porto fermo in cui i personaggi magari non tutti però in quel momento possono sedersi sul divano e tu ti puoi sedere sul divano con loro e riposarti un attimo all'interno di questa festa di fatti eventi, viaggi scomparse, sparizioni eccetera che costituisce tutto il libro quando arriva Tiziana dice vabbè ci sarà una paranoia però c'è anche un momento in cui posso sedermi e accendere la televisione quando c'è Tommaso ci sarà un colpo di genio ci sarà un chi ne so un tentativo di motivare qualcuno qualcosa ci sarà una grande conquista o un grande crollo emotivo ma sarà sempre qualcosa di gigante però è sopportabile perché è fatto da una persona che se le merita nel bene e anche un po' nel male forse certe cose che gli capitano quindi tutto ecco quindi vorrei arrivare poi a farti la domanda sul linguaggio eccetera ma te la faccio dopo prima ti faccio una domanda da 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 di mestiere quando scrivi un libro di questo tipo anche anche il tuo libro precedente le nostre ore contatte era abbastanza composito giocato su due tempi a vent'anni anche lì circa l'uno dall'altro se mi ricordo bene era più breve con meno personaggi di fatto tecnicamente più semplice da fare però era un romano cioè diciamo che era andaggi all'esplosione di quel tipo di quel modo di fare narrativa che tu hai hai già inaugurato con il libro con il tuo libro d'esodo ecco la domanda è apparentemente sciocca ma so che tu capirai che non lo è e che ha dietro una cosa non ti spaventa avere così tanto materiale avere da gestire così tante vite così tanti cambiamenti così tanti ripensamenti anche perché a volte i personaggi ripensano delle cose le rifanno le ricominciano da capo così tante catastrofi da una parte cioè avere adesso io non ho contato quanti sono i cambi di scenario e i cambi di prospettiva di ciascun personaggio all'interno del libro però diciamo che su 380 pagine quante sono non c'è un momento al di là dei momenti in cui il libro è più tranquillo è più fermo momenti di tiziane momenti di riflessione dei personaggi che giustamente ci devono essere però diciamo che ogni 10 pagine succede qualcosa succede qualcosa di grosso ecco avere questa mole questa questa valanga di storie continuamente da gestire da tenere a bada cioè è una cosa che può spaventare insomma in un certo senso è una cosa da tenere è un animale in gabbia che però a un certo punto è uscito perché ha trovato la chiave del lucchetto ecco e tu la devi tenere a bada sì sì ma infatti non è assolutamente una domanda sciocca nel senso che in realtà è stato anche liberatorio liberatorio come scrittore rendermi conto che così tanto materiale in realtà poi non mi spaventava però al tempo stesso liberatorio perché io li ho liberati e io ho dovuto gestirli poi questi personaggi cioè il libro è andato lievitando mentre lo scrivevo e mentre lo scrivevo mi rendevo conto proprio per quel principio di cui parlavi prima per il quale io credo di aver capito questo almeno della mia tipo di scrittura voglio poter voler bene ai miei personaggi anche a quelli che detesto perché Pietro nella prima parte è un personaggio alquanto detestabile è un personaggio che ti verrebbe voglia proprio di prenderla a schiaffi in Toscana si direbbe te le leva dalle mani di schiaffi quindi non siamo noi che vogliamo darglieli è lui che ti spinge a darglieli però però diciamo il tentativo qua sta un po' lo sguardo credo anche della letteratura è quello di scalzare una visione manichea e piatta e quindi il motivo per il quale poi mi ricollego al discorso che facevi su Tommaso è una persona che è un personaggio che non indispone è che è una persona innanzitutto quindi ritorniamo al discorso iniziale è una persona è all'interno della sua linea di vita e noi noi entriamo in un segmento e questo entrare in un segmento ci dà l'idea di una persona che ha tutte le caratteristiche che abbiamo noi eccellente ma anche fragile eccetera 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 e costruire quindi questo tipo di narrazione a un certo punto è diventata anche molto dicevo liberatorio cioè vedere appunto come come questi personaggi avessero bisogno di un di una loro calma per potersi sedimentare per poter accelerare io ho credo sia come lettore che come scrittore una certa passione per la narrazione quindi è proprio un gusto nei miei romanzi accadono le cose perché perché sono fatto così perché sono un tipo di lettore che ama vedere sulla pagina rotolare delle cose ecco oppure star ferme e poi spingerle perché vadano in picchiata quindi quindi sì succedono tante cose ma per esempio proprio in fase di scrittura mi sono accorto ed ecco quindi la difficoltà di gestire il materiale che in una prima versione per esempio avevo proprio esagerato con i fuochi d'artificio accadevano veramente troppe cose mancavano quei momenti di calma e di pausa che ci permettessero invece di tirare il fiato e una volta capito questo ho proprio scollinato ecco come dicono i ciclisti ho capito che invece era molto più in discesa il percorso che potevo permettermi per esempio cosa che ho fatto di inserire di fatto due racconti fatti e finiti nella seconda e nella terza parte come della sorta di pilastri un racconto fatto e finito che se non sbaglio è il quarto capitolo della seconda parte ed è un racconto sul passato di Lorrain quello che diventerà poi il coinquilino di Pietro nello stesso modo nella terza parte c'è un racconto fatto e finito sul passato di Dora e queste sono libertà che mi sono potuto prendere proprio per per questa gestione degli spazi e dei tempi e per questo questo giocosità che a un certo punto ha preso anche il sopravvento perché su un romanzo così denso di accadimenti di personaggi di temi e seguire una strada unica probabilmente sarebbe stato anche controproducente il rischio di costruire veramente un unico romanzo attesi con i temi che abbiamo toccato anche noi di cui abbiamo parlato che ci sono però è giusto che stiano sotto sotto le vite dei personaggi perché sono loro poi i migliori veicolatori invece di un di un messaggio che non deve arrivare come tale ma deve arrivare come storia quindi come divertimento come passione come amore è tutto quello che ci stiamo detto però se dici così menti sapendo di mentire nel senso che sai bene che chi dice così finisce poi dicendo a me alla fine interessa la storia mi interessa la trama mi interessa l'intreccio mi interessa che il lettore come dire non si annoi mai che stia lì avvinghiato al libro e faccia le tre di notte anche se il giorno dopo c'è una riunione in ufficio alle nove che sono tutte cose che tutti noi sogniamo e che insomma io randaggi l'ho detto in tre giorni quindi vuol dire che riesci cioè mission accomplished insomma però se dici così sembri quel tipo di scrittore a cui appunto interessano queste cose e non il linguaggio ma arrivavo Laura arrivo adesso a fare la domanda invece non è vero perché questo qui è un libro a parte che ha dentro delle parole che io non conoscevo adesso non me le sono segnate perché alcune alcune non esistono di fatto almeno per la vedi ma hai fregato ah ok quindi sono meno ignorante di quello che pensate no vabbè e poi ha una ricchezza anzitutto di form nel senso che contiene adesso vabbè ormai non è più una cosa così così originale però contiene email quindi scritte come email non so ti scrivo con il t senza la i queste cose magari stupide ma che in qualche modo mimano un sistema di comunicazione che ormai è consolidato ha dentro pagina 2 credo un telegramma insomma ha dentro tutta una commissione di linguaggi che sono diversi da quello puramente letterario puramente e puramente narrativo ma ha dentro anche tutta una serie di scelte lessicali e di costruzione di frase che non appartengono a quello scrittore che fingi di essere nel momento in cui dici che ti interessa la storia e ti interessano i personaggi cioè appartengono a uno scrittore che ha quella cosa lì ma che dall'altra parte ha ben 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 impresso il fatto che come dire rimarranno quelli che dicono qualcosa sul linguaggio non quelli che dicono qualcosa sui personaggi ecco quindi mi piacerebbe che insomma che che ci parlassi un po' di queste scelte linguistiche io credo che ci siano dei padri nobili no tu hai citato Pratolini ma secondo me non è l'unico toscano che c'è dentro in questa in questo melting pot linguistico che metti che metti in piedi e ci sono delle scelte anche 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 audaci perché di fatto questo è un grande romanzo di formazione è una storia che chiede di essere letta velocemente per quello che racconta e per per la sua struttura per come è pensato il libro ma poi chiede anche di fermarsi non solo sul divano di Tiziana ma anche su tutta una serie di scelte verbali messicali di costruzione di frase eccetera che dicono che sei un scrittore che fa anche ricerca linguistica sì sì diciamo ecco questo stava nel patto ambizioso di costruire un tipo di romanzo del genere che era ambizioso dal punto di vista dell'intreccio dei piani temporali di costruire tanti personaggi ma naturalmente la mia spiegazione precedente sommata ai personaggi che avevano dato i natali a Pietro e quindi Jack London e quindi Joseph Roth naturalmente già ti indirizzavano a questa domanda e alla mia risposta cioè vale a dire che io volevo costruire un romanzo che avesse questo elemento perché è il mio elemento di narratore quindi un certo gusto per la storia anche per le storie piccole è dentro le storie grandi quindi questa è una storia grande che ha dentro tante storie piccole a cui si affacciano tanti anche piccoli personaggi e questo è un meccanismo che mi piace che penso dia dignità anche alle persone anche a quelle più piccole che intravediamo per un momento è un tipo di narrazione che riecheggia se vogliamo anche dai miei studi cito il Don Quixote su tutti io sono lavorato e dottorato in spagnolo e il Don Quixote se c'è una cosa che mi ha insegnato è questa grandissima libertà strutturale sintattica il Don Quixote è stato il primo autore a far parlare i personaggi come parlavano le persone a scrivere parole che non si potevano scrivere a scrivere appunto dei dialoghi in una lingua mimetica quindi esattamente come parlava il porcaro come parlava la prostituta lui li faceva parlare così quindi insomma siamo di fronte a un tipo di scrittore che insegna la libertà e io da questo punto di vista volevo sentirmi il più libero possibile però di nuovo torno a Monte dicendo che che era che venivo da un libro solo sapendo di mentire nel senso che ho scritto anche libri per altre persone ma questo è il mio secondo romanzo e in un certo senso sentivo il peso anche di questo elemento cioè se un primo romanzo è qualche cosa che si partorisce con un certo dolore ma anche con una certa liberazione e non ci interessa più niente volevamo soltanto tirarci fuori questo toglierci questo sassolino dalla scarpa poi dopo però viene in automatico la domanda avevo solo quella storia o sono uno scrittore e io per rispondere a questa domanda senza nessuna forma di alterigia sono andato un po' in cerca di quali autori potevano aiutarmi a trovare una risposta e io sentivo naturalmente nella mia terra una consonanza la sentivo anche per il libro precedente come è stato anche ravvisato da una certa parte della critica ma qua la sentivo ancora di più ho fondato proprio le radici nella terra toscana e non è un caso che appunto due terzi del libro siano ambientati in Toscana ma l'ho affondato anche dal punto di vista linguistico lessicale e ho fatto un lavoro di rimpasto questa è una storia con dei personaggi contemporanei che però si porta dietro una certa classicità sia come riferimenti letterari come vi dicevo prima sia come invece tutti gli autori che sono poi venuti in soccorso la penso per esempio a Federico Tozzi o Romano Bilenchi anche direi ma qua sono più critico o mi sono scoperto più critico anche Carlo Cassola un autore che ho riletto tanto ed è un autore che con il quale invece ho trovato una distanza mentre lo rileggevo e lo ristudiavo perché sentivo invece una mancanza di stratificazione dei personaggi più manichei e me ne sono accorto adesso l'avevo letto quando ero giovane invece era un autore che aveva lasciato dei semi dentro di me Cassola sta perdendo la battaglia col tempo perché ormai ne parlano tutti così io ho un autore che conosco pochissimo quindi non voglio dire niente però tutti quelli che parlano di Cassola ne parlano di Castitera sì perché anche per esempio Malaparte è un autore che è stato molto osteggiato molto odiato ma è stato odiato perché lui odiava tutti e quindi di conseguenza insomma gli ritorna un po' indiato la palla che ha lanciato però anche lui anche lui è stato un altro autore che un testo che sembra un divertismo per chiunque non sia toscano che è Maledetti Toscani invece a me ha dato ha dato una grande rotta mi ha ricordato quella famosa libertà che lui vede nei Toscani che sono questi personaggi che lui chiama Spregiosi è un aggettivo bellissimo questo perché è un atteggiamento irriverente essere spregioso quando sei spregioso significa che puoi dire le cose come stanno e dirle in faccia non hai bisogno di però sei anche onesto cioè coltivi la verità coltivi la sincerità e ci sono degli aneddoti meravigliosi in quel libro me ne ricordo uno in cui Carlo VIII e gli inglesi arrivano a Firenze nel 43 e i fiorentini danno le spalle a Carlo VIII e si mettono a fare i loro bisogni a fare la pipì dandogli le spalle e Carlo VIII gli inglesi fraintendono questo gesto e pensano che sia una sorta di rito comunitario quindi lui scende e va a fare la stessa cosa invece era quella spregiosità di cui parlava Malaparte e questa libertà questa libertà in fondo e lui lo ricorda e lo dice i toscani hanno è vero questa rudezza se vogliamo però hanno però per esempio hanno questa libertà che lui identifica anche dal punto di vista politico dice che non sono mai stati assoggettati ad altre persone se non alle persone che loro avevano scelto e che poi hanno esautorato quindi ecco tutto questo per dire che anche questo tipo di libro che non ha niente a che vedere dal punto di vista stilistico con il mio libro mi ha insegnato a cercare questo a cercare la libertà la libertà espressiva e è ovvio che alcuni autori mi hanno parlato di più davvero Romano Bilenchi ma ci sono anche altri autori che leggiamo un po' meno ma che hanno avuto invece una discreta importanza negli anni 80 negli anni 90 penso a Vincenzo Pardini a Giovanni Mariotti uno dalla parte lucchese uno dalla parte via reggina sono tutte persone che hanno arricchito la lingua e allora io non volevo esagerare non troverete chi di voi avrà voglia di leggere il libro non troverete delle parole così respingenti da lasciarvi in un angolo sono piuttosto usate qua attento un paragone più universale un po' nel modo in cui Camilleri ha costruito il siciliano di Montalbano cioè un siciliano che non esiste ma che dal punto di vista fonetico linguistico si porta dietro un'eredità ecco e quindi mi sembrava bello anche come tipo di ragionamento il ragionamento che sto facendo adesso naturalmente non è così esemplificato nel libro però in un libro in cui non esiste un patrimonio genetico come parlavamo prima in questi randaggi non c'è niente che si trasmette o quasi c'è invece una lingua che si trasmette che è una lingua toscana una sintassi toscana un amore verso certi tipi di 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 linguaggi che sono rudi ma anche poetici e quindi ecco era proprio il tentativo di poter essere o provare a essere classici nella modernità ecco questo era il ragionamento di fondo e spero in qualche modo di aver di essermi avvicinato agli intenti ti ricordo però che c'è chi ha detto che i toscani hanno rovinato questo paese quindi devi devi stare molto attento concordo diciamo che ecco è da un po' di tempo che non arriva un buon toscano senti l'ultimissima cosa al volo che ti chiedo perché sono quasi le sette e mezza e incontri online più di un'ora diventa diventa dura da te ne era non esiste un romanzo di Amerighi senza la musica non esiste un romanzo di Amerighi senza le chitarre domanda brutale io non so quanti delle persone che ci stanno ascoltando hanno già letto Randaggi o quante di quelli che hanno letto Randaggi che ci ascoltano hanno letto nelle nostre ore contate ma forse c'è stato un cambiamento nelle nostre ore contate la musica era una questione di amicizia anche di riscatto in un certo senso da delle vite terribili difficoltose insomma con tutto quello che succedeva in quel libro qua la musica è il primo dei mancati talenti è la come dire la messa in scena del fallimento sostanzialmente ecco se ci fai in un minuto la parabola in mezzo possiamo dirlo tu hai scritto l'autobiografia degli Zanzircus quindi anche lì insomma non esiste un libro in cui c'è il tuo nome in cui non ci sono che fare elettrica ecco è vero è vero è una sorta di maledizione ormai che mi porto dietro ma in realtà è veramente evidentemente qualche cosa di genetico in una riga posso dire che se nel primo romanzo era effettivamente una costruzione che classica di romanzo di formazione cioè la musica è uno strumento per poter unire dei personaggi in una loro bolla incorruttibile degli adolescenti che sono convinti sono certi che il mondo per loro non cambierà mai ed ecco il motivo per il quale peraltro suonano un certo tipo di musica che è la musica punk che è una musica molto ripetitiva molto uguale però molto pura anche e in questo romanzo mi sono sposato un po' più avanti con l'età dei protagonisti e anche le riflessioni sono diventate un po' più se vogliamo malinconiche anche più mature però sono invecchiato ma sono invecchiato come si vede anche dai capelli ma sono invecchiato però è anche il primo scontro maturo con ciò che forse si poteva credere un hobby che poteva diventare un sogno un sogno di successo con invece lo scontro con la vita vera come a Pietro del resto e vale a dire sì sono bravo abbastanza bravo però non ho il talento e bravi come me ce ne sono milioni e quindi e quindi è questo diciamo l'invito al fallimento che poi sono i milioni di momenti nei quali tutti noi ci mettiamo di fronte a qualche cosa che credevamo di fare bene in realtà ci rendiamo conto che non sappiamo fare così bene e quindi credo che questa sia una cosa che mi porto dietro sia come tara che come pro come pungolo come sprono cioè qualcosa che non so fare bene vediamo se trovo qualcosa che so fare meglio quindi probabilmente è il motivo per il quale ho smesso di suonare la chitarra dieci anni fa e mi sono messo a scrivere più o meno questo è il percorso in un minuto in due minuti allora senti Marco io ti ti ringrazio quello che che posso dire c'è sempre questa difficoltà quando si fanno le presentazioni online perché in libreria chi vuole si alza compra il libro tu gli fai la firma qui non può succedere però siete davanti a un computer potete aprirvi o un browser o la mail della vostra libreria di fiducia e ordinare randaggi di Amerighi che insomma di carne al fuoco ce n'è io credo che abbiamo parlato del 50 no ma neanche del 50 di una briciola dei temi possibili e di quegli ingressi di cui vi parlavo un'ora fa c'è questo c'è molto altro al di là di tutto è un libro bello non si dice mai però è sbagliato perché ci sono i libri brutti ci sono quelli belli questo è uno di quelli belli quindi insomma io vi invito a a comprarlo poi insomma Marco Zona Loreto vi fai autogra insomma centralmente a Milano già fatto vedi c'è ah ma Gianluca ti conosco e quindi insomma non vi deluderà mi sembra la pubblicità della Iazzone però insomma è questa questa cosa qua compratelo perché è un bel libro tutto qua io non so Laura se c'è una una prassi di chiusura io vi ringrazio e ringrazio Marco grazie moltissimo grazie a te Andrea Andrea con le forze residue sentite la voce si fa sempre più rintronata allora vi ringrazio moltissimo per questa questo bell'incontro mi è piaciuta ma la conoscevo già da tempo l'onestà intellettuale di Marco Amerighi e conoscevo già da tempo la brillantezza di Andrea Tarabbia magnifico scrittore anche lui allora io ho bisogno di dirvi questo che dalla settimana prossima torniamo in presenza a casa Manzoni nel senso che da mercoledì della settimana prossima con la presentazione del libro di Isabella Bossi Fedrigotti che si intitola Tutti i miei uomini che è una bella galleria divertente di al maschile diciamo così al maschile contemporaneo torniamo a casa Manzoni ma saremo anche in streaming per cui gli incontri si potranno seguire per chi non fosse non potesse venire a Milano anche perché i numeri sono ancora contingentati quindi non si può entrare se non su prenotazione e in numero limitato gli incontri si possono seguire in streaming e online con una novità molto carina secondo me e cioè che da mercoledì prossimo tutti gli incontri del circolo dei lettori avranno in testa per alcuni minuti il il racconto l'aneddotica la dimostrazione di un cimelio di casa Manzoni questo per andare a come dire a conoscere più da vicino anche questo scrittore Tetragono che aveva anche una sua come dire quotidianità talvolta anche piuttosto triste non era esattamente un un buon tempone però andremo a conoscerlo più da vicino nelle sue abitudini domestiche allora siccome il libro di cui parliamo la settimana prossima si intitola Tutti i miei uomini di Isabella Bossi Fedrigotti la cosa che mi sembrava come dire simpaticamente antifrastica da raccontare e da far vedere era la raggera che mettevano le donne eh le ragazze nei capelli siccome a casa Manzoni ce n'è una bellissima d'argento mi verrebbe da dire la raggera di Lucia eh quindi tireremo fuori questo oggetto ne racconteremo la storia e poi cominceremo con i nostri incontri quindi vi aspettiamo a casa Manzoni per chi potrà venire vi aspettiamo online per chi vorrà continuare a seguirci insomma io credo che questa cosa dell'online comunque è un segno un punto di non ritorno credo che eh la presenza sa continuerà a essere fondamentale ma credo che insomma anche questo è un buono strumento per stare insieme per approfondire dei libri stasera lo abbiamo visto in modo davvero magistrale con Andrea Tarabbia e Marco Amerighi al quale facciamo i nostri più cari auguri ed ieri la notizia che il libro in ristampa ad mai ora questo libro merita eh di essere letto sennò come dicevo stamattina Marco non sarebbe stato presentato al circolo dei lettori scusatemi la presunzione ma è davvero un gran bel libro come diceva Andrea prima bene buona serata a tutti e grazie moltissime alla prossima grazie tante grazie a tutti